Ma ciao! Buonasera a tutte le persone che guardano questo mio canale! Allora, quest'oggi invece vi voglio parlare dei regali che mi sono avuto fatta per Natale, perché giustamente a Natale uno si deve volere bene e si deve regalare qualcosa. Io mi sono regalata questi due profumi della Maison Michalef, perché effettivamente non so per quale strano motivo mi sono innamorata proprio delle loro fraganze, che hanno questo non so che di polveroso alle spalle, che non è talcato, non è cipriato, però è polveroso, però è femminile, però sembra una cosa molto delicata, tuttavia te lo senti a lungo. Diciamo che il mio profumo, cioè il profumo che mi ha fatto innamorare dei profumi di questa casa profumistica, profumiera della Maison, di questa Maison di profumi, è stato il Lang in Gold. Successivamente poi, in questo periodo, ho avuto modo di sentire altre mille profumazioni, perché è sto palino dei profumi, e mi sono avuto regalata questi due profumi. E mi sono regalata la versione piccolina, che puoi comprare nel sito sempre della Maison Michalef a 18 euro, e la puoi riempire direttamente da un profumo. Io ho scelto appunto quello che mi piaceva, che vi avevo detto nell'altro video che avrei acquistato, che cioè Mon Perfume Perle. Mamma, che profumo stupendo! Io sono innamorata, pazza, di questo profumo, perché è un profumo femminile, stupendo, meraviglioso, ha i fiori bianchi, però è, come vi ho detto, polveroso, e ha questi fiori bianchi addosso, e si sente la rosa, perché contiene della rosa, poi contiene anche del muschio, della vaniglia, che però si sente nello sfondo, e quindi è, diciamo, la fine del profumo, ma è meraviglioso. Insomma, è meraviglioso questo profumo, e mi sono comprata questa versione qua. Tra l'altro voi, praticamente questo qua lo potete aprire, ok? E potete cambiare questo, quindi comprate praticamente soltanto le... o lo riempite. Com'è? E poi insieme a questo, mi sono comprata questo qua, il Pure Strict della Maison Michalef. Questo profumo qua, ho visto un sacco di recensioni positive di questo profumo qua. Di conseguenza ho deciso che dovevo regalarmi qualcosa, e ho deciso di regalarmi questo qua di Natale, versione 30 ml, ma versione 30 ml non tanto per il prezzo, ma perché ne ho tanti profumi, e voglio usarli tutti, ed effettivamente averne tanti di 100 ml mi sembra un po' troppo. Quindi voglio finire di utilizzare quelli che ho, e poi piano piano ne comprerò altri, e di conseguenza per quello scelgo il 30 ml in questo momento, non per altro. Anche perché ci sono tanti profumi bellissimi da provare, da sentire, che sono una cosa meravigliosa. Allora questo qua è un fiorito, questo qua è un fiorito, che però ha un grande muschio alle spalle, dovrei avere la gardenia e il jasmine, perché... Un po' perché li sento, ma un po' perché mi ricordo di aver letto queste note nella descrizione del profumo, e poi io vi dico, rimane questo muschiato, ma un muschiato bianco, elegante, ma elegantoso, di quelli dove ti senti pulita, elegantosa, insomma, fai la tua bella figura, elegante, distinta, e io ho già delle cose sexy, e quindi volevo una cosa un attimino un po' più professional, però sentendo me, elegante, fresca, amata, e felice. E a me questi profumi non so per quale strano te mi rendono felici, quindi vi consiglio di provarli veramente, perché sono straordinari. Pur Extreme della Maison Michelet, questo qua, e poi fa parte della collezione Jules, e poi il Mon Profume Pearl, che è uscito quest'anno per me è meraviglioso, però dovete sentirli voi, e poi mi direte cosa ne pensate. E buon, questa qua è la review di quest'oggi, ciao!